Come amministrazione stiamo puntando molto su questo binomio legato al turismo, territorio e attività produttive. Si terrà questa domenica 24 ottobre la camminata tra gli olivi con percorsi naturalistici, degustazioni e laboratori all'interno delle aziende agricole e fattorie per promuovere e far conoscere l'olio di Marostica. L'olio che viene prodotto nel nostro territorio di ottima qualità e con decine e decine anche di nuovi olivicoltori, molti giovani che si stanno avvicinando a questa nuova forma anche di reddito. In una fase post-pandemica le attività all'aperto rimangono il traino per diversi player del turismo a livello regionale e locale. Marostica si è giudicata nell'agosto 2020 il passaporto ambientale per i prodotti agroalimentari della montagna vicentina. Un territorio valorizzato da nuovi di fatto imprenditori, vuol dire un territorio sicuro, un territorio ben curato e che di fatto salvaguarda le colline. Colline che sono spesso soggetto di movimenti franosi in tutta quanta l'area del Marosticense, Bassanese, perché purtroppo si è andata via via ad abbandonare tutta quella che è la realtà agricola, che però adesso un po' alla volta sta ritornando. Gli aderenti alla camminata avranno inoltre un buono che prevede una riduzione al costo dell'ingresso al castello inferiore e al camminamento di ronda sulle mura della città. Verrà data una cartina in cui verranno segnati tutti i vari percorsi e tutte le attività che aderiscono lungo il tracciato che viene selezionato.